Spero che vorrai concedermi l'onore di sposarmi. Mi hanno offerto un posto a Yale. Per me è un'occasione d'oro. Lei ha l'aria di una a cui farebbe bene una corsa in carrozza. Che abbia un'annisia. Un viaggio nel tempo. La dottoressa Lindsay Rogers! Autrice di un best-seller addirittura. Ce l'hai fatta? So che ti sposi. Sì. Perché non si può avere tutto? E chi l'ha detto? Appena in tempo per Natale. Venerdì alle 21.10 su TV2000.